Una chiara classificazione per i software ad azione medica, la rimborsabilità delle terapie digitali e una checklist per definire un percorso di regolamentazione e accessibilità ai DTX. Sono le proposte contenute nel primo DTX Monitoring Report sulle terapie digitali e l'avanzamento del sistema legislativo presentato in Senato. Noi ne abbiamo parlato con la professoressa Paola Minghetti, una iniziativa promossa dall'onorevole Simona Loizzo e organizzata da Indicon Società Benefit con il supporto di Ladies First. Quali sono le principali proposte concrete emerse dal primo DTX Monitoring Report? Dall'analisi di quella che è la situazione attuale, quindi di quelle che sono le digital proposte dalle aziende in sviluppo o già presenti sul mercato, è emerso chiaramente che abbiamo bisogno di fare un passo avanti per capire bene come gestire la rimborsabilità. Quindi la proposta concreta che è emersa da questo nostro gruppo di lavoro è quella di una checklist che abbiamo formulato che potrebbe aiutare da una parte il legislatore, da una parte che si deve occupare di rimborso, ma anche le aziende che vogliono sviluppare i prodotti nuovi a capire dove incasellare questo prodotto. Quindi in prima battuta fare un'analisi per capire che tipo di prodotto è e poi in seconda battuta, la seconda parte della checklist, addirittura arrivare a un sistema a punteggi. Perché è ovvio che, partendo dal presupposto che non avremo capienza per rendere responsabile nel SSN tutte le terapie digitali, bisognerà fare delle scelte e queste scelte non possono essere fatte se non sulla base di parametri scientifici importanti, quindi quali sono gli end point, quali sono i dati a supporto. E quindi l'idea è di avere un sistema a punteggio che permetta di qualificare le diverse terapie digitali per arrivare al rimborso. Quale potrà essere il percorso per la loro approvazione? Per l'approvazione il percorso è già abbastanza trattato in quanto la scelta è di trattarli come dispositivi medici, anche se sono dei dispositivi medici un po' sui generi, se è un po' una terza genia. Quello che si sta sviluppando ancora bene è capire quali sperimentazioni cliniche, che evidenze cliniche sono necessarie. Il punto più critico non è tanto l'immissione sul mercato, quanto proprio capire come rimborsare, qual è il progetto e il percorso che devono fare i pazienti per poter averlo rimborsato, cioè il medico, la farmacia, come l'approvvigionamento, cioè qual deve essere tutto il flusso per arrivare a un rimborso delle digital davvero utili, davvero efficaci e che davvero servono con un rapporto costo-beneficio accettabile per il paziente. E il lavoro fatto oggi come potrà aiutare ad arrivare all'obiettivo della rimborsabilità? Il lavoro fatto oggi secondo me aiuterà molto. Si è parlato di fondo dedicato, si è parlato di iniziare ad alcune categorie di terapeutiche. Quindi diciamo tutte queste discussioni che margono mettendo assieme tanti stakeholder e anche tante competenze, perché qui veramente si va dall'informatico all'ingegnere al clinico, al farmacista, cioè è veramente molto interdisciplinare. Quindi mettendo assieme tutto questo io sono convinta che creeremo un percorso che velocizzi la possibilità di arrivare in SSN. Grazie a tutti.